Ciao e benvenuto a una nuova puntata della rubrica dell'oracolo. Vediamo insieme che cosa in servo opero nell'universo nella settimana che va dal 13 al 19 di novembre. Nel mentre ti voglio ricordare, hai visto la presentazione del mio nuovo libro Le 14 leggi universali? Se te la sei persa, puoi vedere la registrazione. Inoltre, se non sei già iscritto al canale YouTube, fallo subito per non perderti nessuna delle iniziative e dei nuovi video che stanno per uscire. Inoltre, martedì ci sarà il webinar dedicato allo scopo della vita. Quindi, se sei alla ricerca del tuo scopo della vita, martedì può essere l'occasione giusta per trovarlo. E come al solito, ti metto sotto il link nel box, così avrai tutte le informazioni. Andiamo ora a vedere qual è l'emozione dominante questa settimana. Ta-da! La paura! La legge universale all'opera è la legge della conoscenza e l'azione il tempio. Allora, sono carte interessanti e importanti e mi viene da farti una domanda. Che cosa hai paura di conoscere? Che cosa hai paura di sapere? Allora, c'è la paura. La paura è un'emozione bassa, è una vibrazione che si diffonde un po' a macchia d'olio, proprio come nella carta. Da una piccola spirale, da un pensiero, si inizia a diffondere e quindi aumentano. E i pensieri si vanno poi a negativizzare tutti. Però la legge della conoscenza ci dice qualcosa di importante. Ci dice innanzitutto che ora sappiamo, grazie anche alla lettura in un certo senso, che ci sarà questa frequenza. E quindi possiamo sapere che è una vibrazione, questa della paura che gira, e farci trovare pronti. E allo stesso tempo, queste due carte insieme ci dicono che è come se ci fosse qualcosa che preferisci non sapere. È come se tu avessi la percezione di qualcosa, di un'informazione, di una verità, un'ipotesi, un qualcosa che però preferisci ignorare, preferisci non conoscere. Bene, questa settimana invece è meglio che tu la sappia. Anche perché la legge della conoscenza ci permette di conoscere eventi esterni affinché noi possiamo conoscere poi cose di noi stessi. La legge della conoscenza porta con sé il suo corollario del gnotis auton, ossia conosci te stesso. Quindi ti insegnerà qualcosa di importante questa paura in questi giorni. Dovrai andare ad avere il coraggio di guardarla in faccia e scoprire che cosa non vuoi vedere. E quindi che cosa c'è dietro questa nube di fumo che nasconde la paura ma invece dietro c'è un'informazione. Come fare grazie al tempio? Il tempio può indicare appunto il meditare, può indicare il racchiudersi magari facendo una camminata, una passeggiata per riconciliare le idee oppure ritagliarsi dei momenti solo per sé stessi per stare in silenzio e appunto meditare o contemplare e cercare anche di schiarirsi le idee. Potete scegliere la tecnica che volete. Se meditate utilizzate una meditazione, anche semplicemente la meditazione del silenzio in cui state con voi stessi anche cinque minuti al giorno, però cerca di farlo tutti i giorni, cinque minuti in cui sei in silenzio e lasci riposare la tua mente. Potresti avere come dei flash di quelle che sono appunto le tue paure che una volta portate a conoscenza si dissolvono e infatti molto spesso basta accendere la luce per far sì che quello che sembrava un mostro nella stanza in realtà poi si viene a scoprire che era soltanto un attaccapanni. Insomma, questa settimana probabilmente la tua più grande speranza e la tua più grande paura coincideranno e quindi solo se attraverso la meditazione riuscirai a portare luce e conoscenza su queste paure potrai volgerle a tuo vantaggio perché da paura si rivelerà invece un elemento di conoscenza che non sia proprio lo scopo della tua vita che magari hai paura di riconoscere perché poi dovrai dedicartici completamente o perché magari hai paura di non conoscerlo, di non riuscire a trovarlo chissà, insomma questa settimana sarai messa alla prova attraverso una paura che però cela una conoscenza quindi non ti abbattere ma anzi entra dentro di te medita, conciliati se vuoi sotto nel box ti metto il link alle tecniche base di meditazione a come iniziare a meditare così che se non hai meditato nel mio articolo trovi come fare a sederti almeno a meditare te lo metto sotto nel link nel box ti metto il link quindi insomma questa settimana è una settimana importante perché la legge della conoscenza è sempre una legge che ci arricchisce quindi mettiti in questo spirito e non lasciare che la paura abbia il sopravvento e poi a fine settimana fammi sapere com'è andata ricordati che c'è la legge della conoscenza sapere è potere se non sei iscritto al canale youtube fallo subito ti ricordo che martedì c'è il webinar se non sei ancora iscritto ti aspetto e spero di poterti aiutare a trovare lo scopo della tua vita a darti gli strumenti per riuscire a riconoscerlo e felice settimana ciao ciao